C'è chi prova a imitarti, c'è chi prova a imitarti. C'è chi ci riesce anche bene. Vabbè, ma allora ti chiedo su, chi è secondo te colui che imita meglio Luciano Di Gavur? Il migliore di tutti è Pierfrancesco Favino. Attenzione! Che durante le riprese di Da 0 a 10, mi prese per il culo parecchio, ma lui è sempre stato il più efficace di tutti, quello in cui diceva, beh, ha proprio beccato ogni cosa, compreso i tic, compreso anche i miei tic, sì. Pazzesco. Ricordo che all'epoca, non so per quale motivo, giravo in tuta e avevo il tic di controllare di non aver perso il portafoglio della tasca dietro e lui costantemente girava facendo questo gesto qua. Che l'aveva captato subito. Giustamente Favino, sa il suo mestiere.